mi dispiace qui in thailandia c'è un tempo molto secco e caldo hai qualcosa lì che puoi bere durante la nostra intervista di solito non bevo ma sai posso chiedere a mia moglie di preparare qualcosa ok accendo qui la luce quasi dimenticavo e possiamo iniziare sì così va meglio ok quindi cari ascoltatori cari osservatori sono qui e con me c'è ed è un grande piacere per me presentarvi qualcuno di molto molto speciale questa intervista è con il dottor semir osmanagic spero di averlo pronunciato bene dottore e oggi parleremo di qualcosa di forse molto sorprendente in parte sulla storia che forse la storia non è il modo che abbiamo studiato che forse ci sono alcune cose che ancora non sappiamo delle quali gli archeologi tradizionali non vogliono permettere di parlare e molto brevemente ti permetterò di presentarti samir molto brevemente chi sei sei qualcuno che ha scoperto le piramidi in bosnia erzegovina e che queste piramidi sono forse le più alte al mondo quando controlli google scoprirai che sono più alte di quelle egiziane ma sai quando qualcuno scopre qualcosa non sempre è accettato ed è per questo che siamo qui ne parleremo e samir grazie mille per il tuo tempo grazie mille per essere qui con noi e se vuoi aggiungere qualcosa su di te prego benvenuto ciao thomas grazie per avermi invitato sono molto felice di essere qui con te quando mi chiedi di me naturalmente siamo molto di più dell'essere fisico abbiamo il nostro aspetto materiale che è qualcosa connesso ai nostri nomi all'istruzione alla vita che viviamo il secondo aspetto è ovviamente la nostra anima la nostra anima passa quasi sempre da un corpo all'altro da un pianeta all'altro e il terzo aspetto è naturalmente lo spirito è l'essenza divina nel nostro corpo quindi è come con le bambole russe e matrioshki abbiamo aspetto fisico che protegge l'anima e l'anima protegge lo spirito ma fondamentalmente mi hai chiesto del mio aspetto sono bosniaco americano croato io sono fondamentalmente un cosmopolita appartengo al 50 per cento a questo pianeta e il 50 per cento è la questione del nostro coraggio cosmico e prima il mio dottorato riguardava le piramidi maya ho trascorso molto tempo nei paesi del messico guatemala honduras salvador e belize ma ho ampiato la mia ricerca delle antiche civiltà e delle piramidi in peru bolivia cina indonesia cambogia australia sudan egitto isole canarie italia spagna grecia bosnia e stati uniti e ho concluso che dopo 40 anni della mia ricerca in viaggio lavoro scientifico sui siti megalitici e piramidali che quasi tutto ciò che ci insegnano sulla storia antica è sbagliato l'origine dell'uomo le civiltà le piramidi e come hai sentito che le piramidi sono state costruite solo in egitto e il messico come ci insegnano nelle scuole in realtà sono state costruite in tutti i sei continenti e le piramidi egizie non erano tombe per i faraoni nell'aprile del 2005 armato della conoscenza delle piramidi intorno al pianeta arrivo nella città di viso co nel centro di bosnia solo mezz'ora di auto dalla capitale sarajevo venendo dal mio paese a col tempo ho vissuto negli stati uniti dove ho trascorso 25 anni quindi vengo al cosiddetto museo locale a viso co e poi vedo questo che tutti chiamano collina perché era coperto dalla vegetazione e dai cespugli della foresta ma potevo vedere una perfetta geometria quattro lati facce triangolari angoli stessa inclinazione dal basso verso l'alto ho preso la bussola la bussola mi ha mostrato l'orientamento perfetto est ovest nord sud ho capito subito che si trattava di una struttura artificiale che è stata ricoperta dalla vegetazione del suolo in migliaia di anni quando pensiamo alle piramidi pensiamo all'egitto ma l'egitto è nel deserto del sud fa caldo c'è il sole niente pioggia niente vegetazione perù la stessa cosa ma le piramidi cinesi messico guatemala honduras lo stesso scenario come in bosnia così nel 2005 dopo la scoperta ho fondato una fondazione senza scopo di lucro e negli ultimi 18 anni è diventato il sito archeologico più attivo al mondo wow wow quando hai scoperto che in questo posto ci sono le piramidi quale è stata la reazione delle persone della scienza perché era enorme penso che nel momento in cui hai scoperto qualcosa del genere quale è stata la reazione sai nel 2005 in primavera all'inizio ero così eccitato perché quando ho visto la forma e l'orientamento ho capito che non era solo piramide ma anche la piramide più grande del pianeta che potevo vedere con i miei occhi ho preso le mappe topografiche calcolando che in quel momento ciò che era visibile era di almeno 220 metri e c'è la figura che puoi trovare da qualche parte su internet è la grande piramide d'egitto quella che eroneamente fu chiamata khufu ovvero piramide di cheope che è alta solo 147 metri quindi molto più grande delle più grandi piramidi egizie che è stata considerata la più grande piramide del pianeta e poi ho iniziato a fare delle ricerche preliminari come persona fisica ho ottenuto il permesso dal ministero della cultura sono stati eseguiti carotaggi geologici trincee archeologiche analisi di laboratorio tutto indicava che si trattava di una struttura artificiale ho scritto un libro e ottenuto una grande conferenza stampa a sarajevo nell'ottobre del 2005 e ho annunciato al mondo la notizia che abbiamo le prime piramidi europee le più grandi del pianeta ho ricevuto 12 mila email di supporto da tutto il mondo la gente comune ha reagito normalmente ma poi l'istituzione culturale quasi completa archeologi geologi storici musei erano tutti i contrari sono andato al dipartimento di archeologia dell'università di sarajevo hanno rifiutato con le parole o conosciamo ogni metro quadrato della bosnia non abbiamo le piramidi il che non ha senso a quel tempo la bosnia non aveva nemmeno la facoltà di archeologia non sappiamo il 90 per cento di cosa c'è sotto la terra in bosnia sono andato al museo nazionale e la loro risposta è stata ancora più divertente hanno detto che non abbiamo mai avuto i faraoni in bosnia quindi non possiamo avere piramidi mi sono reso conto che queste persone vivono nel diciannovesimo secolo con il modo in cui pensano e ovviamente non avevano la mia esperienza sai ad esempio dalla cina dove ci sono 250 piramidi la maggior parte nella provincia centrale dello shanxi tutte ricoperte da vegetazione in effetti dal 1967 il governo cinese ha piantato appositamente alberi di pino per nasconderli dal mondo esterno poiché quelle piramidi hanno più di 12 mila anni e cambiano completamente la storia cinese e quindi ho detto bene e ho fondato la fondazione senza scopo di lucro e ho avuto ovviamente grandi sfide perché quando hai tutti quei grandi scienziati archeologi storici contro di te sai hanno legami molto forti con il governo non ti danno i soldi non ti danno borse di studio sostegni permessi quindi dovevo essere intelligente e creativo e quindi quello che abbiamo fatto abbiamo aperto il progetto ai volontari di tutto il mondo sai solo negli ultimi 13 anni abbiamo avuto 3.750 volontari da 64 paesi molti dei quali provenienti dalla repubblica ceca dalla slovacchia dalla germania dai paesi bassi dalla slovenia dalla croazia dalla bosnia dagli stati uniti dall'australia dalla nuova zelanda dal peru e così via quindi quelle persone sono diventate parte della scoperta hanno scoperto blocchi di cemento sulla piramide del sole tunnel preistorici manufatti materiali organici quindi cosa abbiamo tomas dopo 18 anni di lavoro abbiamo scoperto il complesso piramidale composto da sei piramidi che abbiamo chiamato la piramide bosniaca del sole della luna del drago della terra dell'amore e la sesta piramide abbiamo un complesso di tumuli tumulus è una collina conica artificiale molto conosciuta diciamo nel sud dell'inghilterra come silbury hill o marlboro ci sono in francia ci sono in paesi diversi e abbiamo trovato un enorme rete di tunnel preistorici sotterranei finora abbiamo scoperto ingressi a sei tunnel e abbiamo ripulito oltre tre chilometri di quei tunnel ma ci sembra che ci siano più di cento chilometri di gallerie sotto la valle visibile quindi tre chilometri in archeologia sono una scoperta sensazionale immagina cento non abbiamo idea di che tipo di tesoro abbiamo sopra e sotto terra la piramide bosniaca del sole secondo l'ultima tecnologia chiamata tecnologia leader che è stata applicata in messico bolivia cambogia ancor vat e così via abbiamo determinato l'altezza reale della piramide bosniaca del sole a 368 metri quando si tratta di volume è dieci volte più grande della grande piramide d'egitto l'orientamento a nord è una caratteristica comune per le piramidi in cina indonesia cambogia egitto perù eccetera finora abbiamo pensato che l'orientamento migliore fosse la grande piramide d'egitto con un errore rispetto al perfetto nord cosmico di 0 gradi e tre minuti la piramide bosniaca del sole ha un errore di 0 gradi 0 minuti e solo 12 secondi e la più precisa del pianeta quando abbiamo iniziato a scavare a un metro sotto terra abbiamo iniziato a scoprire blocchi rettangolari e quadrati ovviamente realizzati da mani intelligenti abbiamo svolto analisi presso sette diversi istituti per i materiali politecnico di torino in italia istituto di geopolimeri di francia in repubblica ceca istituto di geologia dell'accademia ceca delle scienze in slovacchia bosnia e tutti ci hanno detto che era un beton calcestruzzo di cemento artificiale è possibile misurare la qualità del cemento di calcestruzzo in base alla durezza e l'assorbimento d'acqua quel beton in bosnia è molto superiore di qualità a quello che possiamo fare oggi per esempio il nostro cemento di calcestruzzo si muove nella scala da 10 a 60 mega pascal questo cemento qui fino a 155 mega pascal oggi ancora non possiamo raggiungere questa qualità cemento di calcestruzzo allora il prossimo elemento elementi della geometria sacra quali sono numero p 3.14 numero fi o sezione aurea e sezione aurea spirituale triangolo equilatero esagono e così via e indovina cosa tre grandi piramidi in bosnia sole luna e drago quando colleghiamo le loro cime la distanza tra di loro è di 2180 metri tre volte 2180 non è possibile che la madre natura possa creare colline perfette con quattro lati quattro facce triangolari orientamento perfetto ai punti cardinali blocchi di cemento messi in rapporto tra angolo e triangolo questo è il risultato di una costruzione intelligente e di una perfetta esecuzione qualcuno è stato in grado di manipolare milioni di tonnellate di materiale costruendo questa più estesa rete di tunnel sotterranei che abbiamo qui uno dei miracoli del mondo sembra meraviglioso samir la domanda che mi viene è sai mi sembra una grande scoperta quindi perché i governi dovrebbero cercare di non accettare rifiutare che potrebbe essere come dici tu qual è il loro scopo perché alcune persone come hai detto cercano di mantenere la storia nei libri nascondendo forse la nostra vera storia perché in realtà hai diverse domande lì prima allora perché non lo accettano ora immagina di essere professore di archeologia o professore di storia o professore di geologia o antropologia e insegna all'università stai dicendo ai tuoi studenti che le piramidi sono state costruite in egitto e in messico e che le piramidi egizie sono state costruite da 100.000 schiavi e che sono le tombe per i faraoni se non rispondi a quella domanda in questo modo non supererai il test non supererai l'esame naturalmente le piramidi egiziane non furono costruite 4.500 anni fa ma 3.000 anni prima non furono costruite dai faraoni o dai 100.000 schiavi perché non c'erano i schiavi in egitto ma da civiltà più avanzate e ora per di più abbiamo la scoperta delle piramidi in europa qual è il loro scopo quindi poiché sono le più grandi e le più antiche del pianeta tutti i libri di storia devono essere cambiati quindi cosa faremo adesso cambieremo i libri di storia cambieremo i dottorati cambieremo le cattedre che non vanno più bene cambieremo la storia di bosnia cambieremo il modo in cui insegnano ai nostri figli il che è sbagliato ovviamente non è solo la bosnia riguarda anche la croazia parigi londra boston quindi dovremmo cambiarlo in tutto il pianeta questa non è una piccola scoperta ma quando si aggiungono a quella altre scoperte gobekli tepe in turchia più di 12 mila anni fa monumenti sul fondo del pacifico vicino al giappone da più di 12 mila anni machu picchu peru orientale non 800 anni incas ma più di 50 mila anni quando aggiungi tutte quelle scoperte intera storia del mondo deve essere ora riscritta nuova la tua ultima domanda perché dovrebbero cercare di sopprimerlo coloro che controllano la storia controllano il passato il presente e il futuro loro chi sono non sono i piccoli paesi come la bosnia o la repubblica cieca non sono la gente comune ma le elite elite da dove dal regno unito o più precisamente inghilterra controllano la storia vogliono mostrarci la nostra storia per lasciarci ancora nella fase infantile e se sei bambino non conosci la tua storia non conosci le tue radici devi dare i tuoi diritti a coloro che possono guidarti le elite politiche corporative religiose ma se la gente comune si rendesse conto che prima c'erano civiltà non solo 5 e 6 mila anni prima di i sumeri babilonesi accadiani asseresi i mori egiziani indiani cinesi eccetera che sono solo l'ultimo ciclo di civiltà c'è stato un metà ciclo in passato che finì 12 mila anni fa un altro 18 mila 500 anni fa un altro 24 mila un altro 55 mila e poi 75 mila quindi negli ultimi 100 mila anni abbiamo avuto almeno cinque cicli civilizzati la gente inizierà a fare le domande chi erano quale era il loro livello tecnologico come era la loro vita spirituale credevano in dio cosa sapevano poi ci rendiamo conto che quelle persone e in alcuni casi usiamo il termine quegli esseri erano molto evoluti spiritualmente fisicamente tecnologicamente e che avremo molto da imparare da loro ad esempio sull'aspetto spirituale ho detto che non sono solo il mio corpo fisico ma anche il corpo spirituale abbiamo la nostra anima anima è quasi per sempre dura miliardi di anni il nostro corpo fisico è solo per un breve periodo ma se conosci la tua anima allora non c'è bisogno di temere la morte fisica se elimini la paura principale la paura della morte allora tutte le altre paure minori temere di perdere il lavoro perdere la casa perdere il conto in banca perdere i propri cari tutte quelle paure scompaiono la nostra società è basata sulla paura vai al mondo accademico l'assistente del professore ha paura di quello che sta per dire se dice qualcosa di sbagliato il professore lo licenzierà il professore ha paura del decano il decano paura del rettore nel mondo aziendale il junior manager ha paura di ciò che il senior manager dirà nel mondo dei media e il giornalista ha paura di quello che scriverà e se l'editore lo licenzierà ovunque c'è paura perché se perdi il lavoro per di tutto almeno questo è ciò che pensa la gente ma immagina se viviamo nel mondo senza la paura all'improvviso diventiamo liberi e questo è ciò che temono le elite non vogliono che siamo liberi una volta che ci rendiamo conto che abbiamo cinque sensi fisici possiamo sentire possiamo vedere possiamo gustare possiamo anusare possiamo toccare ma questa è un'immagine molto limitata del mondo quel che non riusciamo a vedere oppure sentire non significa che non esiste possiamo ad esempio sentire solo da 20 hertz fino a 20 kilohertz un intervallo molto piccolo non riusciamo a sentire 30 kilohertz sono gli ultrasuoni non possiamo sentire i megahertz non riusciamo a sentire gigahertz non sentiamo la maggior parte dei suoni della natura non sentiamo niente sotto i 20 hertz si chiama infrasuono ma esiste tutto possiamo vedere solo quei sette colori gamma molto molto piccola immagina di poter vedere un po di più come gatti per esempio saremo in grado di vedere diverse entità spirituali fantasmi forse extraterrestri il nostro mondo sarebbe totalmente diverso i nostri orizzonti sarebbero molto più ampi immagina di poter controllare il movimento della tua anima alcune persone lo chiamano stato di sogno quindi viaggi da questo pianeta un altro un altro un'altra stella nelle altre costellazioni in un'altra galassia in un altro universo più viaggi nello spazio e nel tempo ti rendi conto di non avere limiti non hai limiti sei libero sei libero ti interessa chi è il presidente del paese ti interessano le misure non puoi muoverti non puoi farlo non puoi lavorare a causa di corona non ti interessa quindi immagina che la maggior parte delle persone sia libera l'intero sistema basato sul disuguaglianza basato su un'organizzazione d'elite crollerebbe questo è ciò che vuole la gente comune in passato alcune delle civiltà avevano tali strutture certo che l'hanno fatto quindi conoscere il passato sta diventando sai un grande pericolo per le elite conoscere il vero scopo delle piramidi è pericoloso per loro perché mantengono questa narrazione che piramidi egiziane sono le tombe dei faraoni scusami ho fatto bene con quel bicchiere d'acqua porto gruppi in egitto ogni dicembre stavo facendo le mie lezioni all'università del cairo facoltà di archeologia università di alessandria biblioteca di alessandria quindi ci vado molto spesso la grande piramide dell'egitto o piramide di cheope o grande piramide di ghisa o piramide di khufu vai all'interno di tre camere finora niente mumie niente mobili regali niente attrezzi niente scritte geroglifiche niente tombe niente simboli niente materiali organici non una sola prova di chi quando come e perché furono costruite perché ci dicono il primo sono entrati i ladri hanno preso tutto ok vai da micerino niente niente mumie vai da scefren niente mumie vai da snefru hanno affermato che ha costruito tre piramidi ovviamente il che è impossibile e ancora niente mumie vai alla piramide di joser piramide a gradoni di sacara niente mumie 155 piramidi in egitto niente mumie allora dove furono sepolti i faraoni nella valle dei re che si trova a 600 chilometri a sud dal alto piano di ghisa nelle loro capitali a tebe a menfi a dendera lì ci sono ma non nelle piramidi così crolla tutta la storia delle piramidi egizie come tombe dei faraoni davanti ai nostri occhi cosa erano quindi abbiamo bisogno di veri scienziati per studiarlo e misurarlo fisici ingegneri elettrici ingegneri del suono ingegneri delle telecomunicazioni medici ma possono andare sull'alto piano di ghisa e fare le ricerche no non possono possono solo egittologi archeologi che custodiscono gelosamente i loro siti non solo in egitto ma anche nel caso di piramidi cinesi piramidi peruviane piramidi messicane piramidi cambogiane ad eccezione delle piramidi bosniache dal momento che è gestito dalla fondazione non governativa abbiamo aperto la porta agli esperti di tutti questi diversi campi l'archeologia non può rispondere alla domanda sullo scopo delle piramidi non può rispondere alla domanda sulla geometria non può rispondere alla domanda su come l'hanno fatto non hanno conoscenza di ciò che ci insegna quindi cinque squadre di ingegneri e fisici provenienti da cinque paesi diversi croazia serbia italia finlandia germania in cinque momenti diversi con la propria attrezzatura sulla cima della piramide bosniaca del sole hanno misurato l'esistenza del raggio di energia che è di 28 kilohertz di frequenza elettrica inizia in cerchio di quattro metri e mezzo di raggio si espande a 20 metri tornando a quattro e mezzo e poi a 20 è un continuo perché lo abbiamo misurato in estate primavera autunno e inverno nella scienza si chiamano onde scalari cosa sono nikola tesla con la sua mente brillante stava indagando su questo fenomeno nel 1899 nel suo laboratorio a colorado springs negli stati uniti negli ultimi 50 anni ci hanno lavorato i fisici russi e sono giunti alla conclusione che le onde scalari si muovono più velocemente della velocità della luce quindi sono mezzi ideali per la comunicazione quindi immaginate in cima alla piramide più grande della bosnia onde scalari o campi scalari secondo alcuni all'interno dei quali si muovono le informazioni stiamo arrivando alla conclusione che il primo scopo potenziale delle piramidi era la comunicazione su lunghe distanze ora immagina questo invece di favole della buonanotte piramidi faraoni principesse re bla 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 ora abbiamo un uso molto pratico di piramidi ma in questo momento noi non abbiamo la capacità di comunicare con altri sistemi stellari noi no non ci siamo ancora il secondo scopo della piramide è l'energia e quando dico l'energia è qualcosa che puoi misurare non nel senso sono di buon umore e ho una buona energia oggi no è qualcosa che è misurabile elettromagnetismo campo elettrico campo magnetico ultrasuoni infrasuoni energia organica se è misurabile puoi semplicemente dimostrarlo quindi entri nel tunnel sotto la valle delle piramidi bosniache cammini per centinaia di metri più vai in profondità respiri sempre meglio non è molto logico ma niente in bosnia è logico le persone con alcuni problemi come l'asma la bronchite si sentono così bene che quando escono non hanno più bisogno del inalatore e altro le persone con la pressione alta si normalizzano le persone con un alto livello di zucchero nel sangue ottengono un abbassamento del livello anche 5 6 7 punti quindi possiamo ovviamente vedere l'aspetto curativo dell'energia del tunnel bene diciamo sempre che non ci occupiamo di guarigione non diamo garanzie mediche ma quello che facciamo numero 1 filmiamo documentiamo tutte quelle persone che hanno quei miglioramenti di salute numero 2 misuriamo ciò che abbiamo misurato nel tunnel è incredibile e la combinazione di 9 elementi numero 1 è molto brevemente i primi 5 sono l'assenza di tutte le radiazioni nocive in questo momento tu ed io viviamo sulla superficie del pianeta ma siamo esposti a molte radiazioni cosmiche alcune di loro sono dannose per il nostro corpo per le cellule del nostro corpo appena si entra nel tunnel a 40 metri sotto terra nessuna radiazione cosmica nociva numero 2 la radioattività naturale proviene dal sottosuolo a volte camminiamo per le strade non ci rendiamo nemmeno conto che questa radiazione sta colpendo il nostro corpo attaccandoci nel tunnel utilizziamo il contatore geiger miller gli strumenti per misurare il livello delle radiazioni i valori sono da 10 a 20 volte inferiori al minimo consentito numero 3 e quindi nessuna reattività nessuna radioattività nessuna geopatogenesi numero 4 nessun segnale per il telefono cellulare che è così devastante che se parli per 10 minuti brucia 100.000 di cellule cerebrali perché a causa del dannoso elettromagnetismo 3g a 2,4 gigahertz 4g 6 gigahertz 5g 28 39 fino a 60 gigahertz domani puoi avere 6g con 300 gigahertz allucinante per le nostre cellule cerebrali numero 5 nessun segnale per wifi ovviamente abbiamo bisogno del wifi altrimenti non potremmo parlare ma lì dove c'è wifi se c'è un segnale significa che siamo circondati da un dannoso elettromagnetismo quelle cinque radiazioni nocive sono esenti nel tunnel per la prima volta nella nostra vita quando entriamo nessun nemico per i nostri corpi le cellule del nostro corpo possono iniziare a fare il loro lavoro qual è il loro lavoro risolvere i problemi nel nostro corpo avviare il processo di rigenerazione e avviare il processo di disintossicazione tutti hanno qualche problema alcune persone hanno la pressione alta lo zucchero nel sangue o problemi mentali ma nei tunnel sta avvenendo la rigenerazione e quando aggiungiamo quattro fenomeni energetici misurabili presenti lì tutti buoni stiamo arrivando nel posto più sicuro e più sano del pianeta i tunnel della piramide bosniaca e quali sono i fenomeni energetici sarebbe il numero 6 la migliore frequenza del campo elettromagnetico 28 kilohertz questa è la frequenza planetaria qualsiasi cosa provenga dal nostro pianeta che il nostro pianeta madre ci fa bene numero 7 ultrasuoni a 28 kilohertz nella scienza questa frequenza degli ultrasuoni è nota come frequenza di levitazione ti senti leggero all'interno dei tunnel numero 8 frequenza molto bassa chiamata elf frequenza estremamente bassa di 7,80 hertz nella scienza è chiamata la risonanza originale di schumann cioè la risonanza del nostro pianeta fino al 1990 e quando siamo nati siamo nati a frequenza 7,83 quando pensiamo se qualcuno ancora pratica a questa attività quando pensiamo generiamo le onde cerebrali a 7,83 quindi siamo in equilibrio con il nostro pianeta ma a causa di tanta cattiva tecnologia computer laptop tablet microonde tv telefoni cellulari antenne satellitari i progetti americani arp hanno così tanto cattivo elettromagnetismo radiazione della ionosfera colpisce i luoghi più contaminati grandi città new york monaco praga sarajevo eccetera e la frequenza non è più 7,83 sarajevo 12 hertz monaco 15 new york 18 non è una grande differenza si direbbe 7,83 o 18 ma è una differenza c'è uno squilibrio che causa lo stress quindi siamo sotto stress nelle grandi città 24 ore al giorno vai nei tunnel e lì ci sono 7,83 hertz in altre parole torni all'equilibrio e al elemento numero 9 che è forse uno degli elementi più importanti questo punto è importante perché lo sono gli ioni negativi sono elettroni spaiati in atomi o molecole e queste sono molecole caricate negativamente sono libere nell'aria quando si collegano alla polvere diventano pesanti cadono a terra e liberano l'atmosfera dalla polvere puliscono l'atmosfera dal fumo ripuliscono l'atmosfera da super ossigeno puliscono l'atmosfera da microbi e microbi sono i virus batteri funghi muffe eccetera se corona era un virus significa che avrebbero ripulito l'atmosfera da corona quindi più ioni negativi ci sono è meglio per noi nelle nostre case la concentrazione di ioni negativi è di 10 20 30 ioni negativi per centimetro cubo vai nel centro delle città a los angeles praga forse centinaia di ioni per centimetro quadrato così è l'aria un po più di qualità vai sulle montagne abbiamo misurato in bosnia su tre montagne diverse vicino a sarajevo da 750 a 1000 il che significa che è sei volte più sano sulla montagna che nella città contaminata ovviamente sì è molto logico e buon senso ma nei tunnel delle piramidi bosniache da 20.000 a 60.000 in estate e in inverno l'altro giorno abbiamo misurato 212 mila ioni negativi per centimetro cubo che è la più alta concentrazione di questi ioni sul pianeta quindi thomas immagina quei nove elementi che ho appena citato quando li combini ottieni davvero il posto più sano del pianeta tu vai dentro è come una terapia il tuo corpo è stato purificato inizia il processo di rigenerazione processo di disintossicazione quindi la nostra conclusione numero due sul potenziale scopo dell'energia piramidale era proteggere ciò che è più prezioso per noi la nostra salute e tutto ha un senso perché qualcuno avrebbe voluto costruire un enorme complesso piramidale milioni di tonnellate di blocchi per un cadavere ma se lo costruisci per qualcosa che puoi usare come comunità vivente è qualcosa che può durare migliaia di anni ha senso ho menzionato i primi due comunicazione e salute numero 3 se vuoi posso continuare numero 3 l'acqua ora l'acqua è ovviamente la fonte della vita e si dice che essere umano è 75 per cento acqua ma davvero il restante 25 per cento se lo spremi siamo il 99 per cento di acqua l'acqua della nostra città all'autorità mediche dicono beh è sana niente virus niente batteri perché perché è stata trattata con il cloro e il cloro è un veleno quindi quello che beviamo è un veleno in alcuni paesi aggiungono floruro di sodio come nel regno unito è diventato legge aggiungono fluoro perché fa bene ai denti o veramente l'esposizione a lungo termine al fluoro una cosa che danneggia i denti ma il problema principale con fluoro fino a 50 anni fa era usato esclusivamente come veleno per i topi veleno per i topi e questo è ciò che beviamo regno unito irlanda australia nuova zelanda un terzo degli stati uniti l'intero canada argentina cile e così via poi il terzo contenuto nell'acqua della nostra città tracce di metalli pesanti come quando trasportiamo l'acqua nei tubi di metallo che appunto rilasciano i metalli nell'acqua numero 4 nelle nostre cucine l'acqua passa anche attraverso i tubi di plastica che rilasciano la plastica quindi quello che beviamo è l'acqua trattata con cloro fluoro metallo e plastica quest'acqua è energeticamente morta inoltre è velenosa se pensiamo che l'acqua in bottiglia sia migliore pensiamoci due volte i maggiori produttori di acqua al mondo menzionerò quelle società di bibite coca cola e pepsi cola la loro attività più importante non è la coca cola la pepsi schwebs acquatonica o l'aranciata e l'acqua hanno il monopolio non solo negli stati uniti ma anche nel terzo mondo cosa fanno usano l'acqua di città già energeticamente morta e aggiungono alluminio bario e altre sostanze velenose questo è ciò che beviamo e noi siamo ciò che beviamo nel caso dell'acqua piramidale bosniaca abbiamo scoperto cinque torri con l'acqua che abbiamo analizzato rispetto all'acqua della nostra città è superiore niente virus niente batteri niente muffe ph eccellente la scala di ph e da 0 a 14 7 e neutro sotto 7 e acido non va bene per noi sopra 7 alcalino va bene per noi ma le autorità mediche cercano di mantenere l'acqua delle nostre città a 7 neutri ma il nostro sangue non ha il ph 7 il nostro sangue va da 7.35 a 7.45 di ph bene l'acqua della piramide qui a visoco a ph 7.45 ideale per l'equilibrio abbiamo inviato campioni al defunto dottor masaru emoto in giappone che è diventato molto conosciuto perché prelevava diversi campioni d'acqua li congelava a meno 21 gradi celsius e poi scattava foto attraverso il microscopio elettronico e ha concluso che diversi campioni d'acqua hanno diverse strutture ad esempio l'acqua contaminata di fiumi o laghi non aveva nessuna struttura acqua esposta a metalli pesanti musica ad alto volume nessuna struttura l'acqua di città nessuna struttura ma l'acqua con cui parli le dici per un'ora ti amo ti amo ti amo cambia la struttura diventa esagonale nella struttura esagono la forma geometrica più potente quando parliamo di energie acqua è stata esposta alla musica di mozart musica cosmica esagono acqua dalla valle di visoco in bosnia esagono con molte strutture simili a cristalli quindi ha una struttura e energicamente viva io dico che è un'acqua felice ha una vibrazione molto alta quindi il terzo scopo dell'energia piramidale è migliorare la struttura molecolare del liquido più importante della nostra vita l'acqua numero 4 userò solo parola cibo ci sono esperimenti che abbiamo fatto numero 5 parola corta immunità negli ultimi tre anni hanno provato a convincerci che la parola chiave è vaccino perché tutti prima o poi saremo aggrediti da virus o batteri la parola chiave non è vaccino la parola chiave è immunità perché una volta che hai preso quei virus e batteri cattivi immunità combatterà e preserverà alla tua salute numero 6 campo aureo campo bioenergetico attorno al nostro corpo abbiamo strumenti sai dal geniale fisico dell'istruzione genetica il professor costantin korotkol negli ultimi sette anni abbiamo scansionato 5.200 persone prima di entrare nel tunnel quando sono tornati dai tunnel oltre il 90 per cento di loro aveva migliorato il campo aurico altro elemento successivo sono i chakra secondo le tradizioni orientali del tibet cina india abbiamo quei sette chakra a livello dei nostri corpi fisici e l'energia passa attraverso quei chakra come grandi intersezioni non è qualcosa che possiamo vedere anche se ci sono alcune tecniche e pratiche con le quali potremo ma non ce lo insegnano quindi abbiamo un corpo fisico ma abbiamo anche un corpo energetico se l'energia fluisce correttamente nel nostro corpo influisce sulla nostra circolazione sanguigna se il sangue circola bene il nostro corpo sarà sano e funzionerà bene è molto semplice ebbene misurando i chakra prima e dopo i tunnel i chakra stanno tornando in equilibrio si aprono un po di più abbiamo misurato anche il livello di stress prima di essere esposti all'energia piramidale il livello di stress si riduce in altre parole thomas le piramidi sono state costruite per proteggere il pianeta le risorse l'acqua il cibo la salute inoltre potrebbero essere utilizzate per la comunicazione e tutto ha perfettamente senso questo è ciò che abbiamo fatto in bosnia negli ultimi 18 anni e pensi che l'establishment lo accetterebbe così ovviamente non lo faranno abbiamo portato centinaia di scienziati di campi diversi per lo più indipendenti hanno fatto misurazioni analisi di laboratorio raccolto i dati hanno fatto sai tutti i tipi di campioni di prova abbiamo dimostrato il nostro caso ma quanto tempo ci vorrà perché le vere informazioni sulla storia entrino nei libri di storia non dipende tanto da noi riguarda l'establishment che deve accettarlo e se sì sarà davvero un processo molto lento e difficile perché significherebbe che stiamo togliendo gli strumenti principali alle élite ed è per questo che non sto comunicando con le élite sto comunicando alla gente comune che viene qui a migliaia da diversi paesi e la repubblica cieca subito dopo i nostri vicini croazia serbia slovenia sono i luoghi da dove abbiamo la maggior parte dei visitatori in bosnia sai nell'anno 2018 il numero totale di visitatori del sito è stato di 40 mila considerando il fatto che eravamo gli unici a invitarli attraverso le mie interviste e presentazioni e le nostre promozioni senza un centesimo da parte degli enti turistici o del ministero del turismo dei governi è stato un successo 2019 50 mila persone 2020 il primo anno di coronavirus 74 mila 2021 136 mila 2022 più di 150 mila quindi cresceremo perché le persone vengono sono felici e torneranno alcuni di loro provenienti dalla serbia slovenia paese vicino vengono tre quattro volte durante la stagione estiva la prima volta che vengono sai sono molto felici poi portano la loro famiglia portano i loro amici quindi questo posto crescerà perché le persone possono riconoscere le nostre buone intenzioni le persone possono riconoscere le nostre buone vibrazioni possono riconoscere che sta accadendo qualcosa di diverso molto presto si arriverà un quarto di milione e poi mezzo milione tra dieci anni un milione quindi stiamo diventando la vera destinazione molto potente e molto attraente e questa destinazione non riguarda solo l'archeologia non riguarda solo la vera storia riguarda la scienza riguarda la spiritualità ma in un altro senso non religioso non fede ma la spiritualità avanzamento dei sensi spirituali riguarda l'aspetto curativo negli ultimi sette anni ho speso tutti i miei risparmi dagli stati uniti acquistando centomila metri quadrati di terreno fangoso sai si è formata immondizia ovunque l'abbiamo trasformato in uno dei più belli parchi d'europa abbiamo strutture megalitiche a cerchio abbiamo i luoghi per lo yoga per la meditazione organizziamo i festival abbiamo il cibo biologico di alta qualità organizziamo promozioni di libri ogni anno ogni anno abbiamo festival di tango otto giorni immagina che nel bel mezzo della bosnia abbiamo un festival del tango e della salsa abbiamo quattro gruppi folkloristici facciamo concerti l'anno scorso abbiamo aperto campi da tennis e il miglior tennista di sempre novak jokovic che l'ha aperto inaugurandolo è stato lo spettacolo mai visto prima nel tennis con i suoi colleghi di slovenia croazia e bosnia migliaia di persone erano lì 72 diversi media e i notiziari dalla bosnia per una volta le notizie non riguardavano la corruzione o i criminali o la minaccia di guerra quindi cattive notizie ma solo lo sport il tennis l'entusiasmo e i giovani il turismo e la bellissima natura quindi abbiamo cambiato anche il presente di questo paese non solo la storia e invece di ciò che cercano forzarci verso il trasumanesimo la società in cui la tecnologia ci controllerà e manipolerà completamente offriamo concetto di un futuro diverso vivere in armonia con la natura e armonia tra di noi senza discriminazione diverso concetto di futuro grazie mille semir per quello che ci hai detto che ci hai descritto qui e ho una domanda per te una domanda stiamo parlando della storia delle piramidi di come le persone hanno vissuto e hai detto una cosa interessante che la storia che conosciamo potrebbe essere molto diversa riguarda qualcosa sulla spiritualità e cosa ti ha sorpreso qualcosa che la gente ha fatto secoli fa e che ancora non capiamo non vogliamo ancora accettarlo come nei mainstream qualcosa dimostra che le persone avevano dei fondamenti spirituali più alti di quanto pensiamo c'è qualcosa di simile che ti ha davvero davvero sorpreso qualcosa che ti ha fatto davvero sussultare e dire oh mio dio è davvero diverso sai ho viaggiato in diversi siti megalitici e siti piramidali in giro per il mondo dai siti molto famosi come stonehenge in inghilterra carna meno conosciuto come hanshan in cina al estenar in svezia rium el here in israele ritrovamenti nei loro siti in india peru bolivia america così via e posso vedere che la spiritualità non è all'aspetto che interessa l'establishment culturale non c'è nessun interesse da noi viene gente attratta che pensa che ci sia molto di più di quello che offre la scienza ufficiale vanno a machu picchu iniziano a sentire le energie vanno sai in bolivia in diversi siti sentono le energie nel nostro caso poiché siamo stati aperti a tutti i diversi aspetti la spiritualità non riguarda le religioni sai la religione è il modo organizzato in cui le persone pregano in quali templi se nella chiesa oppure nella moschea eccetera non si tratta della fede la fede è qualcosa che ti consente avere il contatto diretto con il creatore la spiritualità per me è lo sviluppo dei sensi spirituali sai abbiamo menzionato cinque sensi fisici ma abbiamo 30 sensi spirituali possiamo vedere di più possiamo sentire di più possiamo percepire di più possiamo vedere non solo questo laptop questo corpo fisico ma possiamo vedere con la pratica il nostro campo aurico umano possiamo vedere i colori in questo campo aurico possiamo vedere sette diversi campi intorno a noi non solo aurici ma sette campi a circa dieci metri intorno a noi possiamo vedere i chakra possiamo vedere il movimento dell'energia quando vedi i colori allora sai di cosa parla la persona perché colori diversi caratteristiche diverse colore rosso può essere ovviamente il calore e l'amore ma quel colore di solito non è solo il temperamento quel colore è qualcosa se è troppo rosso sta andando verso la violenza roba del genere colore bianco persone sagge blu o verde salute amore condivisione quindi una volta che lo vedi nessuno può ingannarti in questo momento io e te parliamo o incontriamo qualcuno le persone possono dirti quello che vogliono tu li credi ma se vedi i colori del loro campo aurico sai esattamente di cosa parlano queste persone possono raccontarti storie e storie ma qualunque cosa facciamo nella nostra vita viene inserita nel nostro campo aurico in modo che non possiamo ingannare chi sa leggere e chi può vedere il campo aurico quindi per me la spiritualità e lo sviluppo di quei sensi un altro senso ovviamente c'è la comunicazione con i pensieri su distanze molto lunghe si chiama telepatia possiamo comunicare non importa che tu sei in thailandia io sono in bosnia ma possiamo comunicare senza il computer ad un certo punto della nostra vita arriveremo a quel livello una volta nel passato le persone erano in grado di farlo come sono riusciti costruire la piramide di cheope o la piramide di khufu sai quando costruisci qualcosa oggi devi avere dei disegni se dovessi costruire la casa devi avere una grande serie di disegni muri fondamenta impianti elettrici tetti riscaldamento e chi più ne ha più ne metta tanti disegni quando costruisci qualcosa come la piramide di khufu avresti bisogno del magazzino intero dei disegni ma non hai un singolo disegno perché perché è stata costruita da esseri più avanzati da mani intelligenti come hanno comunicato forse con la telepatia e anche la pianificazione doveva andare comunicando in questo modo come hanno spostato le cose 220 tonnellate pesa il più grande blocco di granito nella piramide di khufu che proveniva da suan 869 chilometri a sud dall'alto piano di giza come hanno spostato questi esseri 220 tonnellate non possiamo spostarli oggi hanno usato qualcos'altro levitazione ma come fai levitare le cose senza la nostra abilità spirituale che si chiama telecinesi lo hanno fatto così forse no l'avranno fatto tramite il nilo oppure forse quei blocchi stavano semplicemente fluttuando nell'aria grazie a questa capacità senso spirituale un'altra capacità muoversi nello spazio e nel tempo teletrasporto questo è il senso spirituale più potente immagina di poterti muovere nel tempo ti insegnano nelle scuole che il napoleone nel 1799 conquistò l'egitto lo leggiamo nei libri che ne dici di spostarci nel 1799 vedere di persona a quell'anno se c'era davvero il napoleone aveva un grande esercito ed entrato nella grande sala della piramide d'egitto ha passato la notte lì era terrorizzato come possiamo leggere in alcuni libri quindi immagina di poter fare tutto questo una volta che inizi a sviluppare di nuovo i sensi spirituali diventi libero per me è tutta una questione di libertà e l'energia è un modo per ottenere quella libertà le elite lo hanno capito molto tempo fa quali sono oggi le nostre fonti di energia ultimi 150 anni carbone centrali di energia termica petrolio e gas negli ultimi 100 120 anni chi possiede le aziende non io e te compagnie petrolifere rockefeller ha iniziato con la standard oil oggi ai exon ai bp shell energia nucleare lobby nucleari francia stati uniti la maggior parte dei paesi tutte queste fonti di energia contaminano sono dannose per noi sono limitate e sono molto costose e sono nelle mani di pochissimi ed è così che mantengono il potere nel mondo tramite le corporazioni posseggono i media la politica e così via immagina di cambiarlo di cambiare questa fonte di energia invece che limitata sporca e costosa che ne dici di averla illimitata pulita e gratuita per tutti e lo sapeva bene la mente brillante di nikola tesla queste erano le sue idee ma chi era il suo finanziatore jp morgan era nel suo interesse avere energia gratuita certo che no gli disse apertamente ascolta quello che stai proponendo è un energia libera come faccio a fare i soldi li e poi è andato a edison ovviamente ogni giorno perdiamo il 99,9 per cento di energia solare sprechiamo questa energia gratuita ovviamente abbiamo centri solari abbiamo dei pannelli solari su alcune delle nostre case ma come sai 1 o 2 per cento del nostro potere non è niente questo è niente è molto poco perché perché qualcuno deve trovare un modo per fare un sacco di soldi con i pannelli solari quindi ti fanno pagare 1.000 euro per un pannello servono 3 pannelli 3.000 euro se vivi 500 anni forse ti conviene finanziariamente sarà redditizio sarai ripagato quindi il big business vuole fare i soldi ma l'energia solare è gratuita il nostro sole e il nostro padre ci dà l'energia ci dà la luce ci dà il calore ci dà le informazioni se passassimo all'energia solare ovunque in questo momento ci sarebbe abbastanza energia per tutti in ogni angolo della terra ma se lo cambiassimo l'industria petrolifera e del gas crollerebbe trasporti tutte queste grandi autocisterne sarebbero inutili senza lavoro raffinerie che contaminano il nostro ambiente non ci sarebbe più bisogno e non ci sarebbe più bisogno dell'industria chimica non ci sarebbe più bisogno dei sacchetti di plastica non ci sarebbe più bisogno delle macchine che abbiamo oggi non ci sarebbe più bisogno dell'industria farmaceutica che abbiamo oggi non ci sarebbe più bisogno dell'industria alimentare una volta che inizi ad aggiungere gli additivi i prodotti chimici diventa industria il cibo dovrebbe essere cibo non industria alimentare se pianto qualcosa io mangio perché dovrei aggiungere gli additivi l'acqua non trattata ma le risorse pulite che abbiamo i pozzi d'acqua in montagna è quello di cui abbiamo bisogno quindi cambiando l'energia cambi la base per questo in una società equa wow amici che ci state ascoltando potete scrivere la vostra opinione o sensazione sotto il video potete anche condividere questo video grazie per questo oppure iscrivetevi ho messo il link del dottor semir osmanagic qui sotto potete trovarlo potete visitare le piramidi naturalmente e ci sono ulteriori informazioni per voi è un'altra domanda semir stavi parlando dei tunnel sai sotto le piramidi e ho scoperto che sono stati sepolti in passato hai qualche teoria sul perché sono stati sepolti questi tunnel chi l'ha fatto e perché sotto le piramidi di bosnia c'è un enorme rete di tunnel preistorici quando li abbiamo scoperti e io li ho scoperti nel 2005 erano solo pochi metri di quei tunnel tutti la chiamavano la grotta naturale ma ho visto che uno dei tunnel futuri aveva un semicerchio di soffitto raggiato così mi abbiamo detto che questo non è naturale ma era pieno di ciottoli rocce e sabbia abbiamo iniziato a rimuoverlo sai materiale non compatto rocce e sabbia e ci siamo resi conto che in realtà era un tunnel che è stato chiuso qualcuno ha chiuso questo tunnel qualcuno l'ha riempito con del materiale quindi pulendo ripulendo ripulendo a sinistra c'era un altro e a destra un altro e troviamo un altro incrocio e troviamo i muri secchi e troviamo le camere e altre strade ci rendiamo conto che è una rete enorme abbiamo datato quei tunnel sulla base di materiali organici che abbiamo scoperto i due metodi di datazione che abbiamo usato il primo è il metodo al radiocarbonio trovi un pezzo di materiale organico può essere un osso può essere una foglia può essere pezzo di legno il secondo è il metodo dell'analisi con aiuto dell'uranio e il torio qui abbiamo usato le stalagmiti abbiamo datato stalagmiti e quindi il periodo in cui furono costruiti i tunnel è di circa 30 mila anni tra 30 e 34 mila anni fa la data in cui i tunnel furono chiusi era circa 5 mila anni fa questa data dovrebbe essere più precisa abbiamo trovato pezzi di materiale organico nel materiale di riempimento lo abbiamo inviato al laboratorio del radiocarbonio di upsala università di upsala in svezia dove hanno accertato l'età di 4620 anni di solito con il metodo di radiocarbonio per ottenere la data calibrata aggiungi il 15 per cento e quindi sono circa 5 mila anni quindi chi è perché ha costruito la rete di tunnel 30 mila anni fa e chi è perché ha chiuso i tunnel 5 mila anni fa stiamo ancora cercando quelle risposte ma tutti i tunnel finora e ne abbiamo ripuliti 2700 metri un sacco di cerchi e di labirinti qualcuno lo ha fatto sistematicamente perché qualcuno avrebbe dovuto farlo se ci riflettiamo tu e io se vuoi nascondere dei tunnel cosa fai prendi una dinamite fai esplodere l'ingresso nessuno lo troverà è coperto di terra domani ci sarà l'erba e la vegetazione ma no qualcuno ha riempito completamente ogni tunnel fino in cima o volevano nascondere qualcosa di molto importante da qualche parte dietro di loro o volevano fermare un movimento dell'energia perché i tunnel liberi fanno circolare l'energia si muove attraverso i tunnel quale energia i poli elettrocinetici ed elettrici ioni negativi energia organica e così via e poi quando ci pensiamo non ce lo insegnano nelle scuole ma ad esempio feng shui la filosofia la scienza sull'energia ci dice che se c'è un canale dritto o un fiume dritto preciso come un laser non c'è movimento di energia ma quando l'acqua scende muovendosi a destra e a sinistra a zig zag e quando hai un labirinto c'è un movimento di energia che sta diventando sempre più forte e tutti quei tunnel continuano verso la piramide del sole di bosnia è possibile quindi che quei tunnel stanno alimentando la piramide con l'energia in modo che possa essere energeticamente molto più forte ebbene nessun altro arriva con le ipotesi simile al mondo ma non significa che sia sbagliata e per rispondere alla tua domanda perché qualcuno dovrebbe chiudere tutti quei tunnel in fondo è stato un enorme lavoro di costruzione beh come sappiamo le piramidi sono amplificatori di energia amplificano le fonti naturali esistenti sotto la piramide del sole abbiamo un campo elettromagnetico generato da una grande quantità di ferro inoltre sotto la piramide il flusso d'acqua sotterraneo crea gli ioni negativi sotto la piramide c'è anche un secondo flusso d'acqua tra i due sai che abbiamo un voltaggio l'elettricità ovviamente abbiamo molto cristallo grezzo nei tunnel e nella piramide e il cristallo amplifica l'energia quindi la piramide amplifica tutte quelle energie e quando hai un raggio di energia e campi di energia puoi usare quel energia per scopi diversi l'energia di per sé è neutra non è né buona né cattiva ma se la usi per scopi buoni diventa una buona energia positiva se la usi per scopi cattivi diventa energia negativa guardaci oggi abbiamo ad esempio i laser il laser è il tipo di energia tu usi il laser in medicina è una buona energia usi laser per fabbricare pistole laser uccidi il nemico beh per quel nemico ovviamente questa non era energia positiva questa era un'energia molto negativa quindi dipende da noi come la useremo è possibile che qualcuno in un lontano passato stesse abusando di questa energia e qualcun altro abbia deciso di chiudere tutti quei tunnel chiudere il movimento dell'energia e distruggere questo potente strumento energetico è possibile grazie mille dottore wow sto ancora pensando a quello che stavi dicendo c'è qualcosa che possiamo imparare dai nostri antenati sullo stile di vita o forse sulla spiritualità perché sai in repubblica cieca le persone stanno cercando di trovare un modo per connettersi con qualche fonte di energia spiritualità o altro c'è qualcosa che puoi dire e puoi dare dei consigli su cosa facevano i nostri antenati noi lo abbiamo dimenticato per me è molto ovvio che i siti megalitici le costruzioni quando hai cerchi di pietre che concentrano l'energia e inoltre numero 8 quando hai energia 8 nessun inizio nessuna fine riguarda tutte le energie un flusso di energia che conoscevano bene sapevano tutto di energia ma anche noi oggi sappiamo molto di energia siamo tutti l'energia inoltre uccidiamo l'animale che mangiamo che è la nostra fonte di energia quella carne morta dell'animale è la nostra fonte di energia immaginatelo non ha molto senso siamo come sai macchine che vanno a gas o petrolio sporco ma i nostri avi antichi erano molto più intelligenti conoscevano quella geometria come la piramide quadrilatera può amplificare l'energia loro sapevano che i cerchi forme coniche possono amplificare l'energia possono focalizzare l'energia possono influenzare i loro campi energetici quando vieni sul nostro sito senti il cambiamento dell'energia a livello subconscio senti ok oh questo è qualcosa che mi piace è molto piacevole ecco perché così tante persone parlano di energia nel caso dei tunnel bosniaci o delle piramidi bosniache entrano nei tunnel meditano chiudono gli occhi o li tengono aperti ma al buio ora sono in grado di andare nel cosmo interiore e sono in grado di connettersi prima con il nostro io spirituale la nostra anima e poi sono in grado di vagare attraverso l'universo e questa non è l'esperienza che ci è stata insegnata nelle scuole o nelle famiglie o dalla tv o dal nostro sistema educativo siamo molto di più dei consumatori fisici dei prodotti tecnologici che ci offrono siamo molto di più e questo è il motivo per cui c'è un futuro per questo progetto che è di gran lunga migliore di qualsiasi altro progetto archeologico gestito da establishment ti ringrazio molto per il tuo tempo vi auguro buona fortuna con le vostre ricerche con le vostre scoperte a volte non hai un po paura di quello che puoi scoprire sui nostri antenati o riguardo alle energie non ti senti a volte sai tipo wow è una grande responsabilità e forse scoprirò davvero qualcosa che cercano di nascondere i governi e l'elite e che tu avrai questo potere di raccontarlo o di stare in silenzio per primo non c'è nessuna paura nella mia vita qualunque cosa scopro va bene sembra che tutti noi abbiamo delle missioni da compiere nella nostra vita sto portando a termine la mia missione quindi lavorerò finché sarò vivo e vedremo con che cosa altro arriveremo ma il potere e del popolo energia libera spiritualità nessuna discriminazione uguaglianza questi sono gli obiettivi che dobbiamo raggiungere mi rendo conto che se vogliamo progredire spiritualmente allora dobbiamo trascinare dentro l'intera società quindi non si tratta di noi pochissimi centinaia di migliaia di persone che andranno in un'altra dimensione in paradiso no abbiamo bisogno di informare educare aiutare sostenere gli altri possiamo farlo essendo e rimanendo aperti in condivisione in collegamento grazie mille vuoi venire qui a dire qualcosa va bene ok perché qui siamo io e sandra e posso dire a tutte le persone andateci soprattutto se avete problemi di salute perché quando ero nei tunnel ho sentito la forte energia e anche in cima alle piramidi la piramide del sole e la piramide della luna era davvero forte e non sono il tipo di persona che può sentirlo subito ma lì ho sentito che era davvero davvero forte l'energia guaritrice e quindi posso solo dire alle persone andateci e godetevelo perché è un paese bellissimo posto davvero forte e persone davvero simpatiche e grazie per averlo scoperto non avevi qualche domanda no no in realtà no ho sentito tutto stavo ascoltando tutto il tempo dall'altra parte e sono così felice per questo collegamento come dire esattamente come l'hai detto dobbiamo collaborare insieme e mostrare alla gente quale è la verità quindi grazie per il suo lavoro meraviglioso grazie questo progetto è diverso ed è unico siamo aperti 12 mesi all'anno 365 giorni all'anno niente ferie per noi le persone sono sempre benvenute abbiamo 36 guide ufficiali vengono da voi e vi portano nei luoghi i volontari sono i benvenuti giugno luglio agosto settembre ottobre cinque mesi arrivano per tre giorni per tre giorni sette giorni due mesi eccetera stanno con noi restano lo adorano e questo è un modo diverso di fare archeologia e scienza ho messo il link sotto il video per voi amici se volete andare potete trovare maggiori informazioni e grazie mille ancora samir osmanagic per il tuo tempo in futuro se ci sarà l'opportunità vorrei continuare la nostra conversazione sarebbe fantastico per me e voi che ci avete seguito diteci cosa ne pensate le vostre opinioni i vostri sentimenti al riguardo se avete un'esperienza come questa oppure potete mettere i link sulla storia o cosa ne pensate e come lo sentite ora perché tutto può essere diverso ma ci dobbiamo arrivare come qui ha menzionato il dottore ed è il nostro compito scoprire nella nostra anima e nel mondo esterno quindi godetevi la serata o la giornata e grazie per la condivisione con i vostri amici sui social media e ci vediamo con la prossima intervista samir grazie mille se vuoi dire qualcosa in chiusura puoi farlo ho detto già abbastanza posso solo dire che tutti sono i benvenuti vieni unisciti a noi entra a far parte di questo progetto unico grazie a tutti